HX, sei tu? HX? Ellen. Brutta. Ellen? Ma Steve, ma chi è questa Ellen? Mayday, mayday. Pensa veloce, pensa veloce, pensa veloce. Ah, sì. Qui risponde la segreteria telefonica di Steve Ballantine. Siete pregati di lasciare un messaggio dopo il segnale acustico? Bip. Sono Jenny. Steve, sei soltanto un brutto stronzo. Ecco che cosa sei. No, no, ma aspetta. Sto pagando non sai quanto per i diritti di autore. Mi avevi giurato che non avrei pagato niente. Come? Aspetta, posso spiegarti. Su serio no, ma perché Ellen mi ha rubato... Come ha chiuso Steve? 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. E ho trovato solo l'indirizzo, che è Viale Mani Unte numero 12 e non c'è altro. Ciao, buonanotte. Gatta, ho capito dove hai nascosto il mio documento. E è cotto come un salmone alla griglia, ma è sbagliato la marinatura, cara mia. Grazie a tutti. E' dentro questa scatola che tiene i tuoi segreti. E lo dicesti la prima volta che facemmo l'amore, nell'antano 1990 e... Ma che anno era? Io che pensavo fosse solo una leggenda, invece... Invece ce l'aveva lei? In ogni leggenda c'è sempre un seme di verità. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.